Ciao raga, allora questo è un nuovo lungo, infinito What I Eat In A Day, è davvero lungo questo video, quindi iniziamo. La mattina mi ero fatta un paio di fettine di pane con la nocciolata bianca, purtroppo il mio aiutante in cucina non le ho tostate, ci sono rimasta davvero male, cioè non mi piace a me il pamboletto non tostato, però me lo sono fatto andare comunque bene, poi c'era la nocciolata bianca, rende tutto magico, pazzesco, quindi ho chiuso un occhio. E per pranzo eravamo in macchina e stavamo andando verso lo store di Ikea con i miei genitori e con Ari, che si è presa sto cornetto alla crema, a me la crema proprio zero. Io invece sono andata sul salato, perché preferisco nettamente il salato, e ho maniuto questa pizza rossa, buona. Bella unta, era untissima, cioè non so se vedete anche la mia bocca, era letteralmente untissima, perfetto, e poi era bella bruciatina, mi ha fatto un pazzie. Più tardi abbiamo fatto nota che, raga, io non l'ho mai fatto, cioè aperitivo da Ikea, cioè non sapevo esistesse l'aperitivo da Ikea, quindi abbiamo preso qualche spritz, e poi c'erano questi taglieri, io ovviamente da cosa ho iniziato, bravo, intollerante a lattosio, che poi voglio specificare, perché ogni volta poi mi insultate e fate, ma tu non sei davvero, raga, sono intollerante, ma nel senso che sto comunque bene, cioè mi si gonfia la pancia, però se non importa a me chi mi si gonfia la pancia, capito, chissene, tante persone hanno la pancia gonfia, ce l'avrò pure io, cioè proprio non mi tocca, capito, non è che sto male. E poi ho mangiato un po' di focaccia, un po' di patatine, erano buonissime, tipo alla cipolla, con super salamini, poi schiaccia col prosciutto crudo, schiaccia con la mortadella, e poi una volta tornata a casa, da Roma, sono tornata a casa dei miei genitori, vi giuro è infinito questo video, sono tornata a casa dei miei genitori in Toscana, e abbiamo preso della pizza. Ho preso questa, che era con le cipolle e con, cos'era, tipo soglioline, non lo so, io ho sempre voluto provare tipo la pizza con tipo le cipolle e il tonno, non l'ho mai provata per rispetto delle altre persone, però a sto giro ero da sola, quindi non avevo nessuno da far soffrire con la cipolla, ecco, buonissima. E poi ho preso quest'altra, che ero con i pomodorini, due erbettine, buona, avevo tantissima fame, non so cosa ho questi giorni, una fame travolgente, e la pizza, come sempre, naturalmente, mi ha soddisfatta. Buonissima!